Niente trasferta a Pesaro per i tifosi a Maranto. Questa la decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e del Gruppo Operativo di Sicurezza, che ha prescritto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo. In considerazione del grave comportamento posto in essere dai tifosi a Aretini in occasione della gara a Arezzo Spalzi legge è per evitare il ripetersi di tali gravi comportamenti con ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una decisione temuta dopo che l'Osservatorio aveva inserito la gara di domenica allo Stadio Benelli nell'elenco di quelle che necessitavano adeguate misure di rigore. Resta comunque una brutta sorpresa per i tifosi a Maranto. L'Arezzo quest'anno era stato sanzionato dalla Lega in due circostanze, entrambe legate a gare casalinghe. 200 euro contro la Carrarese per cori offensivi verso le forze dell'ordine e 250 euro contro il Cesena per il lancio di una torcia in campo. Giovedì scorso invece ad Ancona l'esplosione di un petardo lanciato dal settore ospiti aveva raggiunto il giudice sportivo a richiedere un supplemento di indagine alla procura federale, ma oggi nessun provvedimento è stato ancora preso al riguardo. Secondo il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive alla base della decisione, quanto accaduto in occasione della gara a Arezzo Spalzi dello scorso 23 ottobre, il Comitato Orgoglia Maranto ha preso la notizia del divieto della trasferta e ha deciso di richiedere il sospensivo urgente del provvedimento al Tar delle Marche.